Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con un nuovo video Quest'oggi purtroppo vi dico che vi porterò il set in bot del portiere Perché vi dico purtroppo? Perché solitamente ci pensava il signor Aperzenit Perché lui fa il portiere, perché lui ha grande esperienza Perché per me è il portiere più forte in ambito Pro Club O comunque uno tra i più forti, assolutamente Su questo non ci sono dubbi Ed era interessante che lo portava lui perché vi dava qualche indizio Qualche surplus importante Soprattutto anche per quanto riguarda le parate in game Quindi mi dispiace che ci sia io a disporvi delle notizie Per quanto riguarda il portiere Anche perché ne so meno di lui al 100% Però ovviamente siamo arrivati a un certo punto E volevo comunque portare questo set in bot Che ripeto, è il set in bot che usa Aperzenit Quindi vi parlerò io di come settare il GK Non vi darò indicazioni particolari come faceva lui Però intanto vi dico Questo è il setting che secondo noi è lo special per il portiere Quindi speriamo che torni il prima possibile il signor Aperzenit Lo aspetto vivamente E quindi anche voi credo che lo stiate veramente attendendo Perché in questo canale lui ha fatto pochi video Ma quelli che ha fatto sono stati tutti, tutti bellissimi Ma soprattutto vi ha coinvolto in prima persona Quindi scrivete qui sotto Ragazzi, bombardate di commenti Fatelo per me Rivogliamo Aperzenit Rivogliamo Aperzenit Ci sta un momento in cui uno è impegnato per questioni personali Ma se voi gli date la forza qui sotto per ritornare Sarà di nuovo qui nel canale Basta chiacchiere Andiamo a vedere come si setta il bot GK Speriamo che farò una buona figura Pronti? Via! Eccoci in game per vedere il setting Bot, portiere, max skill points Livello 25 Proprio del signor Aperzenit Sono un po' in fermento Sono un po' agitato Perché devo, tra virgolette, esporvi Quello che non è il mio setting Bensì, quello del mio grande amico Socio All'interno della squadra Capitano della squad Quindi, ragazzi, sapete che io non sono portiere Come ho detto già nell'intro Però cerco di dare più delle uscitazioni possibili Allora Indicazioni del profilo Nome e stile gioco L'ho chiamato ovviamente GK Aperzenit Aperzeta Andiamo su posizione portiere Per ovvi motivi Altezza 1,97 Per un peso di 81 kg Piede preferito di Aperzenit È il destro Lo sapete, il mio è il sinistro Ma io, ovviamente Lascio, tra virgolette, il piede preferito Del signor portiere Aperzenit Simone Che è il destro Per quanto riguarda gli attributi Entriamo e vediamo subito la sezione del fisico Ricordiamo per max skill points livello 25 E subito leggiamo le stats a destra Ossia Elevazione 68 Resistenza 46 Forza 69 Reattività 94 Aggressività 44 Quindi dei valori ovviamente legati al fatto che stiamo Ovviamente gestendo un ruolo come quello del portiere E quindi abbiamo dei valori bassini Per la maggior parte Ma abbiamo anche una certa reattività molto molto significativa Con il valore di 94 Quindi una stats altissima che ovviamente determina anche la buona riuscita nelle uscite ma non solo ma anche per quanto riguarda proprio la reattività nello stretto E quindi la parte del fisico la sezione è così Andiamo ad accendere la parte sinistra con resistenza forza ma soprattutto l'archetype toro e sulla parte destra Fino all'archetype acrobata sicuramente ovviamente i due archetype conferiscono maggiore forza e aggressività che sembra che non servano o comunque relativamente per un portiere ma in realtà sono importanti Ovviamente qui abbiamo acceso 1 su 2 di resistenza Comunque la forza è una stats secondaria ma comunque se abbiamo qualche skills point in più va bene accenderla Questa è la sezione del fisico che è importante per il portiere Andiamo in quella della difesa e vediamo che ovviamente è tutto spento Perché non dobbiamo difendere ovviamente né in contrasto in piedi né in intercettazioni né in scivolata Però leggiamo comunque tutte le stats che sono equivalenti a 20 sia per intercettazioni sia per lettura difensiva sia per contrasto in piedi sia per scivolata Qui ovviamente si lascia invariato e le stats sono uguali un po' per tutti se si arriva con il portiere a questo livello Andiamo adesso nella fase del dribbling e vediamo che qualcosa si accende Si provo perché quando ovviamente tutte le skill points principali vengono archiviate con il livello e con i punti esperienza Man mano che si va avanti si accendono anche queste carte secondarie anche nella sezione del dribbling Anche perché stiamo parlando di agilità e equilibrio che sono due carte che un minimo inficiano la prestazione del portiere Andiamo a leggere a destra le stats come esce fuori qui questo setting bot Agilità 44, equilibrio 43, posizionamento attacco 15, controllo palla 20, dribbling 13 Ci sono ovviamente dei valori under 20 veramente brutti da vedere ma ci interessano poco Quello che ci interessa è boostare quel pochissimo di agilità per arrivare almeno a quota 44 È veramente poco però non ci possiamo pretendere chissà che per un portiere Quindi è un valore che accettiamo di buon grado E passiamo direttamente al passaggi di sezione e anche qui tutto spento Tutto spento semplicemente perché il portiere prende il pallone con i piedi giusto nel rinvio Ma comunque è un dato che va gestito direttamente nella sezione dei portieri Nei passaggi, passaggi lunghi, passaggi corti difficilmente insomma abbiamo nel pro club un portiere che imposta Comunque che riesce a fare un po' il gioco all'arena, un po' il gioco alla magnan Dove si ha un regista bassissimo che è quello che corrisponde al ruolo di portiere Di conseguenza questa sezione va tutta spenta Comunque leggiamo velocemente a destra tutte le stats Visione 45, cross 15, passaggio lungo 40, passaggio corto 40, effetto 30 Comunque dei valori non da rimarcare sicuramente bassi Ma questo è un valore che è costante da anni per quanto riguarda il ruolo di portiere Andiamo adesso sui tiri Abbiamo ovviamente tutto spento Noi dobbiamo parare, non dobbiamo tirare Quindi per ovvi motivi non accendiamo nulla Ci sono tutti i valori che sono intorno al 10, il 15 C'è potenza tiro 61 che non riesco a capire la motivazione Ma comunque non mi soffermerei troppo Perché ragazzi è tutto spento Non bisogna segnare, bisogna fare l'opposto Bisogna opporsi agli attaccanti affinché non segnino Quindi i tiri possono anche rimanere tranquillamente così Andiamo a vedere la velocità perché è interessante Non è ovviamente una sezione di primaria importanza Non dobbiamo subito incentrare le attenzioni su questa sezione Bensì su quella successiva per ovvi motivi Però siccome ci rimangono qualche carta libera Qualche skill points da inserire Beh, accelerare un po' di più il portiere non è male E quindi riusciamo comunque a raggiungere quota 42 Che è bassissimo come valore Ma meglio di niente Quindi le accendiamo per avere quel più 7 praticamente di accelerazione E accettiamo di buon grado Anche se mi aspettavo qualcosa in più Sinceramente arrivati a questa quota di livello Sia 25 Andiamo a vedere adesso la sezione più importante Che è quella del portiere Eccola qui Allora Per ovvi motivi è tutto acceso Tutti 2 su 2 Non vi sbagliate Tutti 2 su 2 Che comprendono riflessi Presa E tuffo Ora La cosa interessante qual è? Che si va ad accendere i due archetype disponibili Archetype viola falco Archetype viola muro Che ovviamente Sono Dipesi dal Fatto di Boostare due sezioni Interne al portiere diverse Come quella del tuffo e presa E come quella dei riflessi e piazzamento L'unica che non ha Tra virgolette L'archetype Da boosting È rinvio Che comunque ha un valore Incredibilmente alto Che corrisponde al 96 Ci riallacciamo al discorso di prima dei passaggi Vedete qua Comunque il rinvio Già lo abbiamo altissimo E ci basta Ed avanza Andiamo a leggere subito le stats Tuffo 91 Presa 89 Rinvio 96 Riflessi 93 Piazzamento 96 Siamo quasi dappertutto Over 90 Ovviamente Ragazzi È inutile ripetervelo Questa è una sezione che va accesa completamente Cioè si fa il portiere Quindi Non è possibile Lasciare sguarnito qui Una carta Una skill points Per accendere magari qualcos'altro In non so Velocità Non ha senso Bisogna prima accendere tutta questa sezione Per poi Cercare di aggiustare Livellare qualcosa Sull'equilibrio Sull'agilità Sulla velocità Per il resto Questo va tutto acceso E comunque Si toccano quote Incredibili Adesso andiamo a vedere Un attimo Quelle che sono le specialità I perks Del portiere Li apriamo E vediamo che La scelta di Hyperzenit È proprio su Questi tre perks Che sono quasi I tre finali Praticamente Per quanto riguarda Lo schema Qui la griglia Il primo È i riflessi felini Che migliora i riflessi E la reattività del portiere Quando para Quindi abbiamo già Tra virgolette Un miglioramento Con il fisico Ma soprattutto Con le carte del portiere Per quanto riguarda i riflessi Questa carta Del perk Ovviamente Ottimizza ancora di più Questo aspetto Per quanto riguarda Invece il secondo perk Hyperzenit Ha scelto uno contro uno Migliora le capacità Del portiere Nell'uno contro uno Sicuramente Molte volte Soprattutto in fase Di contropiede Dell'avversario Quando contraattacca E la difesa Della tua squadra Tra virgolette Si trova in difficoltà Il portiere Il portiere si trova Uno contro uno E questo perk Aiuta molto C'è da dire Che quest'anno Non è facile Per i portieri Parare in generale Perché ci sono Dei tiri bug Imparabili Proprio per questo Secondo me Questo perk È obbligatorio Da accendere E Hyperzenit Dice sempre Che effettivamente È super utile Per quanto riguarda Il terzo perk È l'allungo Migliora la capacità Di parare I tiri Dalla distanza Sicuramente A volte Troviamo degli avversari Che provano Delle conclusioni Anche velleitarie Dai 30 metri Però a volte Di tiri a giro Oppure di tiri di potenza Quando si fanno I contromovimenti Per chiudere Il primo palo O il secondo palo Fanno sì che Una mano Dal punto di vista Di perk Dal punto di vista Di allungo E quindi Di parata Tra virgolette Difficile Potrebbe essere Super utile In tante circostanze Ci sono altre possibilità Per il portiere Altri perk Legati proprio Al GK Legati agli ultimi 15 minuti Di partita Quindi Sono di secondaria Importanza C'è Uscita rapida Che aumenta La velocità Del portiere Quando scatta Nelle uscite Ed è Comunque importante Potete Inserirlo A discapito Di queste Tre perk Selezionati C'è poi Dominio Palle Inattive E secondo me Questa è una caratteristica Molto molto interessante Bisogna anche vedere Quelle che sono Le caratteristiche vostre Da portiere E scegliere voi Comunque La soluzione migliore Io Vi esterno Quelle che sono state Le scelte Del signor Hyperzenit Adesso Andiamo a vedere Quello che è L'overall Totale A livello 25 Di un portiere Abbiamo 92 Velocità 38 Portiere 93 Passaggi 35 Dribbling 19 Difesa 20 Fisico 59 Quindi Dei valori Buoni Soprattutto Per quanto riguarda Il GK Ed è quello che ci interessa Di più E leggermente Decenti Quasi sufficienti Per quanto riguarda Il fisico Ragazzi Per oggi Abbiamo terminato Con il setting bot GK Max skill points E niente Andiamo Ai saluti Ragazzi Anche per oggi Abbiamo terminato Con questo video E spero Che vi sia piaciuto Lasciate un like Attivate qua sotto La campanellina Per questi tipi di video E molti molti altri Condividete Interagite E tante tante impression Mi raccomando Per oggi Abbiamo terminato Con questo setting Ho fatto un po' di fatica Perché Sono un po' Estraneo A questo ruolo Ma ce l'abbiamo fatta Un saluto a Johnny Ciao